Buonasera, buonasera a tutti. Ce lo facciamo un applauso? Questo è un fonico a farlo scherzo un po' Sì, infatti l'hanno preso su scherzo a farlo. Buonasera. Dai Luciano, cosa ci fai ascoltare? Allora, faccio ascoltare una favola dedicata a tutti voi. Però voglio quella che ha in inglese. Dedicata a te Antonio. Luciano Pottano, un grande. Siamo? Sì, prova. Sulle mani. Sì. Prova. Prova. Sì. 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 Bellissima, fantastica, un angelo tu sei, per me sei unica, sei magica. Sì. 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 Buon compleanno. Sì. 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 Siamo dopo Antonio, ok? A dopo!